Ora è il sotto, vi farà vedere la parte di sinistra della mappa con un pizzico di di skip, ma no cazzo, questa cosa qua non era voluta. Ora andiamo a prendere quella moneta lì, fantastica. Vai. Ragazzi, è una moneta. La smettiamo di saltare quando... Quello è il momento. Il problema è che... Come ho fatto ad andare avanti? Non sono andato avanti, ragazzi, l'avete visto? Ping pong. Ok. Visto? Visto? Che difficoltà c'era? Che difficoltà c'era? Comunque andiamo avanti normalmente. Punto è qua. Come ci fa? Bella domanda. Se non guardo la web, chiamo ovviamente ci sono delle possibilità che mi sto concentrando. Wow. E questo ragazze era un esempio. Allora, direi di andare qui, da questa parte perché mi ispira. No, non penso che lì si possa fare qualcosa. Io ho visto qua un solo ponte. un ponte. Bellissimo questo bel ponticello molto tecnologico. E ovviamente non mi trassina. Perché ho saltato? Tecnica, tecnica, tecnica. Ho una tecnica. Stai più vicino possibile al centro della parte. Bene ragazzi, l'ho fatto, l'ho fatto. Vediamo la moneta rossa. E direi che adesso possiamo utilizzare il martello, questo qui. Ok. Ok, 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 ok. Sta calmo. Direi di utilizzare quel martello per raggiungere la fine di questa stella. Hammer time! Ce ne manca solo una, quella dell'idro electric, pazze. Ok, ok. No, 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 ok. Aspetta, aspetta. Focus. Go. Wow, 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 mi sono salvato. Cos'è sta roba qua? Cosa mi rappresenta? Oh, cavolo, sono morto. Cosa mi rappresenta questa parte? Cosa mi rappresenta? Anche io genio. Aspetta, aspetta. A cosa mi riferisci? Cosa mi... Ok, vai. Bene. Un'altra moneta presa. Contenti? Bene. Devi ritornare qua, ovviamente. Parti... Ti vi buttati da qui. Ovviamente qua, ovviamente, c'è una parte di livello piena, ma letteralmente piena dei pesolini buoni e cattivi, ma l'ho superata senza problemi. Benvenuti nel nostro ultimo livello del mondo, prima della challenge. E qua non vedo monete. Ah, eccola lì. Eh, sì. L'ho vista, l'ho vista, ragazzi, l'ho vista. L'ho vista nella previews. Sì, l'ho vista nella previews, questa parte. Ok, così. Poi adesso devi andare qua. Ho capito, ho capito. Lui... Lui... Robert fa così. Fa lo skip fantastico. Fa così. Fa. Salta così. Poi si mette qui. Fa lo skip così. Avete capito? Bene. Se avete capito, siete delle brave persone. Vuol dire che avete le abilità anche voi di fare questo gioco. Il problema è che noi potremmo già a finire il mondo. Il problema è che mi manca solo questa moneta qua. Secondo me è la moneta più difficile del gioco, di questo mondo. Se devesse fare una... Se devesse fare una sottospecie di riassunto del mondo, direi che questa è la moneta più difficile che abbia mai fatto. Devo smetterla. Devo smetterla di continuamente fare un salto che mi faccia andare dalla parte opposta. Non deve esserci. Ok, ok. Vai, 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 vai. Moneta rossa. Oh! Grazie al cielo, signori, signori. Abbiamo finito. Abbiamo finalmente sei stelle. Wow. Guardate, guardate. Ve lo faccio vedere. Toggo lo shift lock. Ecco voi. Tutto. Tutte le stelle del mondo. Bene, 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 signori. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Ora direi che possiamo finalmente fare la challenge di seller. Wow. Ah, al contrario va. Tip... No, tip... Ti prego. Tip... Perché mi fa andare lì? Perché mi fai andare di lì? Che cosa mi... Perché? Ok. Benissimo. Ok. Benissimo. Ora, vai. Sì, credo quasi. Non dimmi che mi fai in asse da prima. Eh... Mi stai... Ok, no. Vai. Dai, let's go, let's go. Boom. Boom, tubo. No. C'è una cosa che però mi chiedo. Ma se io... Se io ricominciavo lì... Devo schippare lo... So, o roba. Io avrei potuto già schippare questa parte. Io avrei potuto schipparla, per vostra informazione. Visto, 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 visto. Ok, adesso. Cosa è quella parte lì? Come si fa? Non lo so. Ok. No. 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 Ok. Questo qua è zona salva. Dobbiamo unire le forze per andare di qui. Perfetto. Bravo. Ok. Bravo. Bravissimo il Sotto caspita. Hai imparato tutto sull'uso degli spin. Ti figi spin. No, 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 no. Scusate. Scusate. Scusatemi. Scusatemi vuoto. No, no. Stai scherzando. Stai scherzando. Pessenti. No! Ti prego, ti prego, ripeto. Oh grazie. Mio preferito Per chi è nuovo Esisteva già Esisteva già Una Kaizo di questo mondo Un po' più difficile ripeto a questa Faccio gli scherzi Bravo batti le Ci batti le mani perché sono due E quindi Non so cosa sto dicendo Basta dai ragazzi la smettiamo Possiamo andare avanti Non saremo neanche E questo è bello non siamo neanche a metà Basta 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 ok 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 Possiamo ritornare con le cuffie Da questa parte qua Possiamo anche superare senza problemi Dipende solo Il momento giusto Boom Vai così Dov'è il simbolo Tutto ciò Non vedo il simbolo No 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 Dai che Che caccia Ancora la zona idroelettrica Buongiorno Martellino Martello di lì Martello di là Aspetta aspetta Come faccio a fare Eh qui è una cosa di Velocità Che se non esiste Eccolo Non mi batterai Non mi batterai Io sono forte Cavolo no 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 dai ragazzi sono troppo Troppo veloce troppo veloce troppo veloce troppo veloce per me Devo raggiungere Robert Robert vuole che io raggiunga quella cosa Robert vuole che io raggiunghi Raggiunga il baricentro Come si il baricentro Capita Robert io ti Io 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 non posso fare cose così di alto livello di questo tipo Non c'è lo spazio Il problema è questo Più vai al Più un angolo va al centro Più diventa sempre più piccolo Non Non posso Potrei farlo solo se ci fosse un'area maggiore Io comunque avrei sperato di riuscire a raggiungerlo Il centro Sì Io sto puntando di raggiungere il centro Perché non posso fare così Cavolo C'è l'area lì che voglio andare È casa mia Quell'angolo lì è casa mia E io questa challenge la voglio portare Dai Ok vedete Boom Ha 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 Un gioco da ragazzi Sì Ho capito Stai tranquillo Io lo conosco questa parte qua Eh Kaiwara Kaiwara me l'ha insegnata Sella Sella No Sella Sella non è ancora finita Cavolo Cavolo Non è ancora finita Ok Perfetto Beh Uh Ok Buongiorno 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 Signori E con grande gioia E con grande annuncio Il sottogamer Ha completato al 100% Il primo mondo Della nuova modalità Da adventure for world 2 La superstar mode E sotto ha completato al 100% Adventure grounds E con grande onore E sotto Può Prendere Il simbolo Ragazzi è stata una bella sfida È stato un grande onore Portarla fino al termine Vedremo quanto sclererò Nei prossimi mondi Già questo secondo me È già tanto È già tanto Ma sono felice Non so se si può continuare Secondo me no Secondo me se tu superi La prima porta Dopo Ti farà Fare qualcos'altro Già Vedete non si può andare avanti E quindi abbiamo finito Quindi ragazzi Grazie per aver visto questo video Non so quanto durerà Ma sarà lungo Per una ragione Però se l'abbiamo fatta Abbiamo portato al termine Questa demo Della superstar mode Spero che vi sia piaciuto Sì E bello Ho anche la webcam Che ovviamente sarà molto in ritardo E avete visto Delle mie reazioni Fantastiche E vabbè Comunque grazie ragazzi Per averlo visto fino in fondo E Ci vedremo ad un altro episodio Di qualcosa Di qualche altra bella Perla Che uscirà Nella community E quindi Beh Fine del video Fine del video Mi sento un errore Rover Se stai guardando questo video Impara da me Che io Le speedrun No Di speedrun Ne guardo Però voglio ancora imparare un po' Di dettagli Per essere ancora Un grande Però va bene Va bene Quindi da sotto è tutto Ci vediamo ad un prossimo episodio Di qualcos'altro Ciao ciao